Due presunti rapinatori sono stati arrestati dai carabinieri a Sansevero negli ultime ore. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di due persone che farebbero parte di una banda che ha messo a segno ieri una serie di rapine nel centro dell'Alto Tavoliere, seminando panico e terrore tra la cittadinanza. Tutto iniziato alle 7 di ieri sera con la rapina alla rivenda di tabacchi in via Guareschi. I rapinatori, armati di pistole e coltelli, sono entrati in attività commerciale facendosi consegnare l'incasso. Dopo mezz'ora la banda ha messo a segno il colpo al supermercato Deco in via Togliatti e poi ad una farmacia in via Daunia. In tutti e tre i colpi la banda aveva agito indossando maschere di carnevale. I carabinieri ieri sera hanno fermato due uomini che potrebbero essere gli autori del colpo al supermercato. Ancora in corso intanto l'indagine degli uomini dell'arma per capire se si tratta di componenti della banda che nelle ultime settimane ha messo a ferrofuoco la città di Sansevero, creando panico e terrore tra commercianti e cittadini.